Partinico mira a diventare un punto di riferimento per iniziative di alto valore culturale. Due associazioni si uniscono, danno vita al teatro Gianni con rassegne artistiche, teatrali e anche musicali. Io credo che dobbiamo essere fieri di questo percorso, perché per la prima volta Partinico ha la possibilità di avere delle rassegne artistiche di indubbio valore che concentreranno sul nostro territorio artisti di fama regionale e nazionale. Questo credo che per tutti quanti sia motivo di orgoglio e sia anche motivo di prospettive future migliori per il nostro territorio. Io, come ho detto nella conferenza stampa, credo che questo nostro territorio ha bisogno di una lievitazione culturale e quindi di percorsi che permettano ai cittadini di migliorarsi e attraverso il miglioramento culturale dei cittadini la possibilità di un percorso virtuoso anche dal punto di vista dello sviluppo sociale e civile. Un miglioramento che parte dalle scuole. Sì, noi per quanto riguarda le scuole abbiamo proposto una serie di progetti a partire dai ragazzini delle scuole elementari fino alle scuole superiori e abbiamo presentato dei progetti ad hoc per cui stiamo creando anche una collaborazione virtuosa e devo dire anche che stiamo avviando delle convenzioni con l'istituto dell'alberghiero per quanto riguarda la scuola alberghiera che già è una nostra partner con l'impissia di Partenico Corbino che stiamo lavorando perché possa realizzare la sezione moda i costumi della leggenda di Colapisci cioè vogliamo che il teatro si integri in un rapporto di collaborazione con le scuole perché ci siano scambi di conoscenze e di comunicazioni e tutto questo per far sì che questa nostra offerta culturale venga conosciuta da più soggetti e soprattutto apprezzata dai cittadini. Musica, arte, teatro. L'obiettivo è quello di far diventare il teatro Gianni di Partenico con un centro sempre aperto. Sì, l'obiettivo nostro è esattamente questo a Partenico mancava un luogo in cui potessero convogliare tutta una serie di persone a cominciare dagli artisti prima di tutto e a Partenico non c'era un luogo dove gli artisti si potessero incontrare per esempio ieri abbiamo, perché tra le iniziative che facciamo che è stato detto nella conferenza tra le iniziative che facciamo, facciamo anche i laboratori ieri per esempio avevamo dieci maestri di musica seduti attorno a un tavolo che discutevano di arte, di musica e di didattica della musica di come insegnare gli strumenti ai ragazzi e quindi questo per me, per noi, è un motivo di grande soddisfazione cioè questo luogo che diventa luogo di incontro e di confronto con argomenti di alta cultura in questo caso si parlava di musica noi intendiamo quindi portare avanti un discorso generale di sviluppo culturale della città che riguardi il teatro, che riguardi l'arte in genere che riguardi la musica stiamo preparando il teatro per le scuole cioè noi vogliamo che le scuole vengano a teatro che i bambini si abituino alle poltrone rosse che è un fatto straordinario le poltrone rosse dove i bambini si possono sedere e godersi uno spettacolo quindi proporremo spettacoli per i bambini di scuola elementare e materna spettacoli per i bambini di scuola media ma anche spettacoli per le scuole superiori come la tragedia greca che è argomento di studio per i licei per esempio quindi la tragedia greca Le Baccanti la storia di Colapesce scritta da Fifo Costanzo quindi valorizzando gli artisti locali quindi le nostre attività sono attività a 360 gradi io ripeto questo concetto di luogo di incontro perché Partinico aveva la necessità che a Partinico ci fosse uno spazio culturale aperto tutto l'anno e non iniziative culturali che per carità ci sono ma sono episodi che è limitato a determinati periodi quindi quando noi siamo aperti dalla mattina alla sera abbiamo dei ragazzi che lavorano qua con il progetto Garanzia Giovani quindi noi abbiamo il teatro aperto dalle 9 di mattina fino alle 8 di sera quindi non ci sono problemi gli artisti, la gente può venire il palco è a disposizione per tutti chi si vuole esibire presenta un progetto e può farlo quindi noi non siamo soltanto cartellone ma siamo anche un luogo di cultura A proposito della rassegna teatrale di quest'anno quali i principali appuntamenti? Noi abbiamo un cartellone artistico dove ci sono una serie di eventi cabaret, quattro eventi di cabaret per esempio musica con il concerto di Daria Biancardi musical che il musical è quello della leggenda di Colapesce la tragedia greca, il teatro tradizionale serio chiamiamolo così, teatro leggero quindi un'offerta artistica molto varia che può accontentare i gusti della gente poi abbiamo le altre rassegne la rassegna di teatro amatoriale dove vengono valorizzate compagnie locali poi abbiamo la rassegna di musica classica perché sappiamo che nella nostra città la musica classica spesso latita a parte qualche iniziativa magari nelle chiese, nelle parrocchie poi per il resto c'è poco quindi un calendario di eventi di musica classica e poi il teatro per bambini Musicisti di fama internazionale arriveranno a Partinico nell'ambito della rassegna organizzata al teatro Gianni un motivo di vanto per voi Allora, grazie all'unione alla collaborazione di diverse forze grazie all'avermi dato questa possibilità di essere direttore artistico di questa stagione ci saranno otto spettacoli di musica classica nel cartellone della stagione di musica classica e lirica otto spettacoli di primissimo ordine con artisti di fama internazionale tra cui gli Archie Ensemble che da poco sono stati tra l'altro tra le altre cose all'Expo di Milano Teresia Bote un concerto che è nell'ambito di una masterclass di Angelo Gilardino uno dei compositori più importanti a livello mondiale ad oggi viventi e quindi insomma tante belle cose un cartellone di primissimo ordine spero che il pubblico lo accolgano come merita Il teatro Gianni diventa anche laboratorio verranno qui fatti dei corsi di musica Dei corsi musicali L'Accademia prevede di fatto due dipartimenti uno di musica moderna e uno di musica classica ci saranno nomi importanti di insegnanti che cureranno i ragazzi che si iscriveranno a questa Accademia i corsi hanno durata annuale i professionisti potranno garantire la possibilità di accesso in conservatorio preparandoli per gli esami di ammissione programmi individuali stabiliti storia, tecnica, analisi insomma lo strumento musicale è studiato in maniera seria per formare dei ragazzi sia dal punto di vista strumentale ma anche della cultura musicale in sé e quindi è una realtà importante tra le altre cose i titoli che rilascia l'Accademia sono sicuramente spendibili a tutti i fini di legge e quindi è una cosa molto importante sì, è una novità importante per Partinico sì, sì sì, sì sì, 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 sì sì, 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 sì Grazie a tutti.